Questo replay su YouTube, vi ricordo che sono in live ogni sera su Twitch, per tale motivo sotto in descrizione c'è sempre il mio canale Twitch Iscrivetevi al canale Twitch, non ci vuol nulla, per vederle live queste cose ogni sera Il canale YouTube verrà sempre usato per farvi rivedere queste belle azioni, queste belle partite e per i lanci del live sui lanci dei nuovi giochi o i nuovi hype Questa è la parte che è pericolosissima Quello che sta sparando se mi è morto, quest'altro di qua sta aspettando e muore pure lui Questi sono tutti i cadavere, io posso essere cadavere cercando di attraversare qua Dai che è là Cosa? Ah si l'ha messo qua Io mi ero spaventato, dico dove cazzo è il mio mirino, c'è pure una canzone che dice dove cazzo è la mia bella ottica, è bella 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 ma non so dove cazzo è E' bellissima questa canzone, potete comprarla a 59€ su Volsciente Vevo, un prezzo di favore solo per voi, Restless Gamers, che volete la bellezza musicale, che è scelta la mia uvola Perché non leggo ancora, prego Volsciente, grazie Volsciente, non sento la gratitudine dell'aria Un altro 4 per, che non c'è prega niente Perché se non ho booster, gna, è molto gna, servirebbe pure un 8 per, perché non ce l'ho quasi mai Quando lo trovi nelle fasi proprio finali finali, che i nemici sono a 5 metri l'uno all'altro, non è che ti serva tanto l'8 per Perché ho preso un goziliardo di bende secondo voi Purtroppo non ho trovato neanche lontanamente tutte le cure che volevo Questa è la parte dove è pericolosissima Quello che sta sparando sempre è morto, quest'altro di qua sta aspettando e muore pure lui Questi sono tutti i cadavere Io posso essere cadavere cercando di attraversare qua Ora vedete quanti ne muovono i gas Oh, beh, playzone, quello non è morto Semplicemente un simpatico, non è vivo Alta macchina Non è vero Sono tutti intorno a me ragazzi, c'erano i fianchi dietro quella collina e là. E qua ce l'abbiamo, se non ci sparano ora non ci sparano più ragazzi, ci dovrebbero essere a qualche parte qua. Non lo sapevo. e dai che la chicken dinner raga winner winner chicken dinner spero vi sia piaciuta ovviamente state guardando questo replay su youtube vi ricordo che sono in live ogni sera su twitch per tale motivo sotto in descrizione c'è sempre il mio canale twitch iscrivetevi al canale twitch non ci vuole nulla per vederle live queste cose ogni sera il canale youtube verrà sempre usato per farvi rivedere queste belle azioni queste belle partite e per i lanci del live sui lanci dei nuovi giochi o i nuovi ai